Poi definisce alla perfezione, con un tocco qui e arriva magari per risaltare il portiere poi c'è l'autocorpo, non avrebbe fatto cosa tra dubbio Mario Gomez che poi si fa male, questa coppia che si sta integrando molto bene se ne è vista che nel primo tempo qui si vede lentamente e poi si fa male per il calcio, calcio grinting si fa male Gomez che non trova